Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare però, come si faceva a diagnosticare un'ernia? Beh, come si può dire, dominava la parte clinica, la parte radiologica, diciamo quella più comune, l'autografia standard cosiddetta, che comunque secondo me oggi deve essere assolutamente rivalutata perché, ripeto, proprio a causa di questi versi d'agile molto sofisticati si perdono di vista quelle che sono delle indicazioni chiarissime per il clinico verso il trattamento riabilitativo, verso il trattamento chirurgico, questo non deve essere mai perso di vista. Perciò, diciamo, entriamo proprio nel vivo di quella che è poi la sua specializzazione, perché evitiamo adesso l'intervento, abbiamo capito che l'intervento è proprio come ultima razza, perciò per arrivare all'intervento, secondo me, dal primo, almeno da quello che ho capito, dai primi sintomi proprio non si può assolutamente pensare a un intervento, assolutamente no, bisogna arrivare proprio, penso, a una paralisi quasi totale, insomma. Beh, diciamo che dopo l'esperienza clinica indica chiaramente quale può essere il percorso, diciamo che normalmente accade questo, ecco, facciamo un esempio pratico per far comprendere meglio questo, diciamo, questo tipo di problema. Un paziente si presenta alla nostra attenzione, dove lavoro io, noi ci sono specialisti su questo settore qui, della colonna vertebrale. Ricordiamo appunto che lei lavora presso il centro paraplegici di Ostia, anzi, per prenotare una visita eventualmente con lei, si può rivolgere al CUP, appunto, dell'ospedale Cassi di Ostia, perciò. Sì, stavo dicendo appunto, si prende in carico un paziente, si vede intanto le radiografie di cui già è possesso il paziente, comunque le indagini che sono già presenti, si fa una visita piuttosto accurata e da lì si parte dando un opportuno trattamento farmacologico. Chiaramente il paziente deve essere ricontrollato frequentemente, almeno, diciamo, ogni 4-5 giorni, anche ogni settimana, anche telefonicamente, mentre se c'è qualche problema particolare si può anticipare la visita, e si indirizza appunto verso il trattamento di tipo riabilitativo. Noi abbiamo anche una scuola di educazione posturale all'interno della nostra struttura che prevede una prima lezione, che è una lezione teorica, fatta dal sottoscritto, tra l'altro, dopodiché c'è tutta una serie di lezioni che sono di tipo pratico. Sono piccoli gruppi con 3-4 persone oppure sono delle lezioni che sono vere e proprie individuali, però sono già riservate a casi che sono chiaramente più impegnativi. Perfetto, noi per il momento ci fermiamo un attimo perché mi sembra che incomba la pubblicità e la linea passa alla regia appunto a Max Giurastante e poi ritorniamo ancora in studio a parlare appunto di fisiatria, di problemi della corona vertebrale con appunto il dottor Stefano Finucci e con i nostri ospiti che poi man mano andranno a intervenire. Ed eccoci nuovamente in studio con queste due bellissime canzoni, poi alla fine una dietro l'altra perché abbiamo scelto, sì, Luca Carboni per Mare Mare, però dato che la carriera di Luca Carboni è iniziata proprio con la collaborazione appunto con Lucio Dalla e abbiamo scelto due canzoni che parlassero di mare, ma non a caso, non a caso perché più tardi poi introdurremo anche qualcosa che ha a che fare con il mare, appunto col nuoto e anche con la ginnastica posturale, la postura e la cura appunto delle patologie appunto legate alla corona vertebrale. Ritorniamo ancora a parlare appunto con il dottor Stefano Finucci, ci ricordiamo che fisiatra è presso il centro paraplegici di Ostia Lido e Ostia, Ostia Lido è la stessa cosa, insomma prima abbiamo detto Ostia, Ostia Lido, appunto Lido di Roma, proprio nel... propriamente detto. E dottor Finucci appunto, vabbè, io adesso ho accennato il nuoto, magari parliamo dopo magari del nuoto, però in generale parliamo degli sport. Uno che... allora ci sono degli sport che fanno bene per in qualche modo riabilitarsi per quanto riguarda i problemi della schiena, della colonna, e invece degli sport che sono completamente non indicati, sicuramente dannosi anche. Sì, diciamo che bisogna fare una discezione importante, in generale diciamo un soggetto che non ha nessun problema di mal di schiena, non ha nessun tipo di lesione comunque, diciamo, né vertebrale né discale, può praticare praticamente qualsiasi tipo di sport. Quando si affaccia a qualche problematica, sia la presenza di ernie, e la produzione di scali, bisogna stare un pochino più attenti, perché ci sono dei sport che sono molto più traumatici per quanto riguarda il racchide. Ad esempio, pensiamo ai sport dove c'è una grossa competitività, è chiaro che si è chiamati a fare dei sforzi o comunque delle prestazioni sportive che stressano in qualche modo il racchide, questo chiaramente non è certamente indicato. Poi ci sono anche dei sport che possono essere poco simmetrici, ad esempio pensiamo al tennis che tende a sviluppare tutto un emilato, in generale l'emilato dove si utilizza la racchetta può essere destro o sinistro, anche qui bisogna fare poi degli esercizi di compenso per riuscire a diciamo, mantenere la simmetria. Ricordiamoci che i gruppi muscolari sono inserzionati sulle ossa e quindi è chiaro che condizionano anche l'assetto posturale. E ancora possiamo pensare ad esempio che vi sono dei tipi di sport dove vi sono delle vibrazioni oppure vi sono dei continui traumi in sede lombosacrale, delle sollecitazioni proprio in senso verticale che ovviamente alla persona che ha già una lombalgia possono dare dei danni. Si pensi per esempio anche all'utilizzo di barche a motore a alta velocità per esempio sull'acqua già di per sé possono dare lesioni per i contraccolpi che possono essere oppure la persona che deve iniziare ad andare a cavallo e ancora non ha una buona padronanza di questo tipo di sport può dare lesioni in questa sede. Comunque le patologie di scali e vertebrali possono essere molteplici. Si pensi per esempio a uno scivolamento di una vertebra sull'altra chiamata spondiolistesi e in questo caso il soggetto che vuole fare bicicletta ha delle difficoltà perché deve mettere in flessione il busto e il tronco quindi è chiaro che facilita il dolore per uno schiacciamento dei nervi stesi. Insomma, voglio dire non si può fare come abbiamo detto già prima almeno in parte diciamo un'indicazione così generale in rapporto al tipo di problema che ha ciascun paziente si deve scegliere uno sport e bisogna rispettare chiaramente anche i gusti dello stesso paziente. Certo. Comunque lei ha parlato prima dei soggetti diciamo normali a livello patologico per quanto riguarda la colonna vertebrale ma ci sono degli sport eventualmente che possono in qualche modo favorire l'insorgere di patologie vertebrali? Sì, certamente a meno secondo le pubblicazioni che noi possiamo leggere sull'elettorio internazionale si è visto alcune attività sportive che sono derivate anche dall'aerobica paradossalmente come esempio lo step il fatto di salire e scendere velocemente alcuni gradini possono favorire l'insorgere di lesioni di scali quindi bisogna prestare molta attenzione a questi tipi di sport così come anche il sollevamento di pesi che viene fatto spesso più spesso dal sesso maschile ma anche dal sesso femminile se non si ha un allenatore che è molto competente proprio in modo specifico sulle problematiche della rachialgia cioè del dolore di colonna vertebrale in questo caso possono insorgere le proprie lesioni di scali in altri termini possiamo dire che il soggetto che ha comunque diciamo una rachialgia può eseguire lo sviluppo di tutti quanti i muscoli però deve essere fatto in modo analitico e deve essere eseguito da una persona particolarmente competente perciò diciamo che se a una certa diciamo nella come dire un ragazzo insomma durante l'accrescimento un genitore viene da lei dice per evitare problemi alla colonna lei che sport consiglia per il mio figlio ci sono degli sport che lei escluderebbe a priori e degli sport che potrebbe consigliare diciamo che dipende anche dove vengono fatti sport faccio un esempio molto pratico diciamo che Radio Roma è una radio sportiva magari qualcuno qualche radioscoltatore si arrabbierà magari prenderà ma come però è anche una radio sportiva non solo sportiva non so se io faccio un'attività di calcio è molto importante il tipo di terreno dove esercito questo tipo di attività sportiva ad esempio se è un terreno sintetico in questo caso la colonna vertebrale viene sollecitata molto più rispetto a un terreno naturale e questo si può appunto verificare semplicemente provando a fare una partita di pallone in un campo rispetto all'altro lo stesso discorso riguarda anche chi gioca a tennis è molto più importante è favorevole fa meglio anche alla salute giocare su un terreno che può essere fatto in terra piuttosto che un terreno sintetico anche per un discorso che non riguarda soltanto la colonna ma anche tutto l'apparato muscolo-legamentoso degli arti inferiori che spesso si rovinano frequentemente infatti giocare a calcetto è un terreno sintetico spesso gli ospedali sono pieni il punto di persone con i legamenti 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 invece per quanto riguarda una volta che è in sorta la patologia come per esempio diciamo un calciatore mettiamola così un calciatore anche professionista o semiprofessionista perché magari il direttante dice vabbè non gioco più e finisce così diciamo il calciatore adesso senza fare nomi però un calciatore di serie A per esempio all'improvviso anche i calciatori di serie A possono avere problemi alla colonna anche se rivediamo atletici tutto quanto però deve smettere di giocare poi? no oppure no normalmente se non sono diciamo problemi di elevatissimo profilo particolarmente gravi dovuti a traumi dove sono anche avute delle fratture vertebrali insomma problemi ovviamente importanti in genere non si smette di giocare si è dato tanto come ho detto già in precedenza di seguire la persona dal punto di vista riabilitativo dall'evento acuto fino al termine del ciruro riabilitativo normalmente sono individui che possono recuperare molto bene e tornare a fare l'attività sportiva come accade chiaramente quotidianamente anche con una produzione un'ernia di scale? si si